Gentili telespettatori, buona giornata. Abbiamo 5 milioni di dosi di vaccino, pronti se servirà. Chi lo dice non è un paese straniero, ma è in Italia, è il sottosegretario alla salute Costa. Dice non siamo di fronte a un'emergenza, chi è stato vaccinato contro il vaiolo è protetto all'85%, ma si tratta di persone che hanno più di 50 anni, perché dopo il 1981 o dal 74 all'81 non è diventato più obbligatorio. L'Istituto Superiore di Sanità ha dichiarato che abbiamo già la disponibilità di oltre 5 milioni di dosi di vaccino antivaiolo, quindi siamo preparati eventualmente nel procedere qualora ve ne fosse la necessità. Lo ha affermato il sottosegretario alla salute Andrea Costa, ospite di Rai News 24, commentando l'acquisto da parte della Gran Bretagna di 20 milioni di dosi di vaccino. Costa poi ha ribadito con chiarezza che non siamo di fronte a un'emergenza. Siamo di fronte a una situazione che deve essere però monitorata. Stiamo affrontando insieme questa nuova fase di monitoraggio. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.